5 cose da vedere ad Amsterdam Passeggiare lungo le strade della capitale dei Paesi Bassi e girovagare senza meta ammirando le meraviglie della città di Amsterdam Andare a pranzare da Men Impossible ottimi antipasti e ramen cremoso con un twist qua è tutto vegano Godersi i colori che addobbono la city di Amsterdam Andare a cenare da Olido ottimi vini e buonissime pizze fatte con ingredienti di qualità e ammirare il bellissimo tramonto dai canali di Amsterdam